buongiorno a tutti una pillola molto pratica solo cantata che ci ricorda l'importanza di lavorare anche a due voci è importante proprio affrontare questi passaggi per i gradi sempre solo io e poi con voi non ti via mi mi è sono sono da tivi da è mi è è Soldo, soldo Eccoci arrivati alla conclusione di questa pillola molto semplice ma fondamentale per il controllo della propria voce, per l'ascolto dell'altra voce e per la ricerca della relazione. Grazie a tutti per aver guardato il video, grazie a tutti per aver guardato il video.